Musica Senso unico a Carpani, tutti contro, come 20 anni fa. Molta partecipazione alla riunione indetta dalla Giunta Ferrari, cittadini e commercianti, basta più vigilanza. Intanto si farà la rotonda a San Giovanni. Il PD regionale ha detto no alla difesa dell'ospedale ilbano. Rifondazione comunista denuncia e commissione hanno respinto i nostri emendamenti per salvaguardare i piccoli ospedali toscani, in particolare quello di Portoferraio. Rischio idrogeologico Rossi forza il patto di stabilità. Il presidente della regione toscana non è accettabile che lungaggini e burocrazia mettano i cittadini in condizioni di pericolo. Napoleone fra arte e gastronomia. Per la settimana della cultura della regione toscana, sabato e domenica prossimi un'apertura speciale dell'Open Air Museum di Italo Bollaro. Buonasera cari telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento quotidiano con l'informazione, le notizie del nostro telegiornale. Una notizia su tutti ha fatto discutere soprattutto Portoferraio. Si parla molto di traffico in questi giorni e proprio nelle scorse ore si è parlato molto della ipotesi di istituire un senso unico a Carpani. Una zona che per molti è stata oggetto di proteste, quasi dimenticata, si diceva, negli anni passati. Adesso la Giunta Ferraria ha provato a mettere in campo questa idea, ma ha trovato grande contrarietà. Ma andiamo a vedere passo per passo come è andata la riunione che c'è stata proprio a Carpani e le varie posizioni, a cominciare da quella dei commercianti. L'amministrazione comunale di Portoferraio ha incontrato i cittadini di Carpani per confrontarsi sulla possibilità di istituire il senso unico nella frazione. Ma c'è poco da fare. Come successe 20 anni fa, Carpani non è convinta che la soluzione al caos del traffico sia il senso unico. I commercianti rispondono alla proposta con un no deciso. La nostra posizione praticamente si riallaccia alla posizione di tanti anni fa, che fu il motivo per cui nacque il comitato di Carpani. Già da allora si parlava di senso unico, ma noi eravamo tutti contrari e poi non fu più fatto. E ora riproporre di nuovo questa cosa ci trova di nuovo sulla stessa posizione. Tanto di più che negli anni poi l'insistere del problema di Carpani non è più così importante forse come era 20 anni fa. Perché in effetti ora con la diminuzione delle aziende che ci sono in zona c'è anche forse un bisogno meno impellente, o sti macchino, o comunque in un certo senso ha trovato per conto suo un certo equilibrio questo quartiere, nel suo caos diciamo. Comunque se lo vediamo in veste più moderna un intervento va comunque fatto, quello è poco ma sicuro. Il nostro terrore è che oltre a non fare niente di migliorativo abbiamo poi anche il senso unico. Noi chiediamo di intervenire sulla sicurezza, sul ripristino della segnaletica, fare eventualmente in modo da rallentare anche la velocità del traffico, ma soprattutto ripristinare le vecchie zone di scorario o magari con un sistema più moderno, macchinette a tempo, qualcosa che dia un polmone, un gruppo di posti macchina che possono roteare e servire quelle aziende che sono attualmente ancora viventi a Carpani. Fruire di quello che c'è, migliorarlo, ripristinarlo piuttosto che magari imporre una cosa che magari non va tanto bene. E insieme ai commercianti hanno espresso la loro contrarietà anche gli abitanti di Carpani che dicono il problema non sono i parcheggi ma gli automobilisti maleducati. Sentiamo. L'opposizione di Carpani all'istituzione del senso unico è compatta. Alla posizione di contrarietà dei commercianti si affianca quella dei cittadini che non credono che il problema si possa risolvere limitando la circolazione in un solo senso. chiedono piuttosto parcheggi a tempo e sosta per carico e scarico, di pari passo con l'eliminazione dei parcheggi selvaggi sui marciapiedi e davanti ai cassonetti. Per quanto riguarda i residenti, io abito a Carpani da due anni e vedo che effettivamente non conosco la situazione di come era stata proposta al senso unico precedentemente, però mi rendo conto che per un residente avere l'obbligo di fare il giro entrando a vannuccio o in un senso o nell'altro sarebbe effettivamente un dispendio di tempo e di energie sicuramente. Per quanto riguarda i commercianti non credo che solo avere dei parcheggi in più possa stimolare una persona a venire a comprare a Carpani perché il problema dei Carpani non sono i parcheggi, i parcheggi si trovano, c'è il parcheggio a fianco ai giardini che è sempre libero per cui chi vuole venire a Carpani attualmente ha già la possibilità di farlo. Il problema dei Carpani sono le persone maleducate che parcheggiano sui marciapiedi, che parcheggiano davanti ai piedi della spazzatura e spesso e volentieri capita che lo stesso camion della nettezza urbana non ha lo spazio per fare il suo lavoro perché ci sono macchine parcheggiate, quindi non credo, lo dico come residente, che il problema si possa risolvere limitando la circolazione in un solo senso, ma semplicemente andando a istituire quello che una volta funzionava, cioè i parcheggi fatti con un disco orario, la necessità di istituire di nuovo dei posti per le attività che hanno necessità di postazione per carico e scarico e sicuramente eliminare questo malcostume che tanta gente ha di parcheggio sui marciapiedi. E l'amministrazione Ferrari che era presente al gran completo all'Avigione di Carpani ha dovuto prendere atto della volontà dei cittadini ma ha anche spiegato quelle che sono le ragioni di questa ipotesi di provvedimento, annunciando intanto che si farà, e questo è molto importante, una rotonda al posto del semaforo di San Giovanni. C'era gran parte della giunta comunale portoferraiese nella sala del circolo di Carpani per parlare del traffico e di come potrebbe cambiare nella frazione con il nuovo piano dell'amministrazione. Sindaco e assessori hanno preso atto della netta contrarietà dei cittadini e anche dei loro suggerimenti. Bertucci ha annunciato intanto la realizzazione della nuova rotatoria a San Giovanni. È il progetto propedeutico ad un probabile cambio nel senso di marcia nella frazione, ha detto. Una volta pronto lo sottoporremo ai carpanesi e speriamo che siano proprio loro a chiederci l'istituzione del senso unico. Il pensiero dell'amministrazione, quando siamo entrati qui dentro, le abbiamo spiegato, è quello di facilitare l'accesso dei cittadini di Portofraio, che non sono di Carpani, per cui che devono andare nei negozi di Carpani, di facilitare la loro permanenza per quello che gli serve per andare a comprare delle cose, per andare a prendersi un caffè e tutto. Probabilmente è dura far capire una cosa del genere. Capisco anche il commerciante che trova difficoltà. Però noi, l'istituzione di questo senso unico, che non è obbligatorio, cioè noi abbiamo avuto quest'idea del senso unico, che sia in ingresso che in uscita da Carpani. Noi pensavamo di fare del bene al commerciante, il commerciante rifiuta questa cosa, ci dispiace questo. Comunque noi intanto facciamo la rotonda di San Giovanni, che deve essere quella lì, che poi propedevica a un futuro, forse, senso unico di Carpani. Poi presenteremo ai cittadini di Carpani, quando sarà preventivato e finito il progetto di questo senso unico, in entrata e in uscita, con tutte le alternative, con tutti i parcheggi, con i pro e con i contro. Speriamo che la cosa vada avanti in questo modo e noi ci auguriamo che poi sia il cittadino di Carpani a dirci sì, fateci questo senso unico perché abbiamo visto che funziona. Abbiamo preso i suggerimenti dei commercianti che chiedano una maggiore azione di vigilanza, faremo anche questa. E' certo che però non vogliamo poi un domani che i commercianti ci diano eh ma dè, ora ci avete mandato vigili, fanno le molte. Purtroppo non si può avere la moglie briaca e la botte piena. Cambiamo argomento dopo questa lunga parentesi dedicata a Carpani, che era però doverosa da parte nostra e parliamo di sanità. Un argomento molto importante che è andato ancora una volta in Consiglio regionale. C'è un allarme da parte di Rifondazione Comunista, di una consigliere regionale di Rifondazione Comunista che dice che il PD ha detto no ai nostri emendamenti per salvaguardare la sanità nelle piccole realtà della nostra regione. Sentiamo perché? Anche perché ci sono dei riferimenti ben precisi alla situazione dell'ospedale di Portoferraio. Uno schiaffo non solo a noi, ma soprattutto a tutti quei comitati territoriali che in qualità di rappresentanti istituzionali ci hanno chiesto di tutelare i loro piccoli ospedali e in particolare di garantire l'attività di pronto soccorso di primo livello, garantendo così la sicurezza dei propri cittadini. Oggi invece abbiamo registrato la secca bocciatura di richieste oppure una riformulazione dei testi presentati che di fatto li svuotano negli obiettivi principali come la presenza di pronto soccorsi ben attrezzati, l'assistenza pediatrica, il mantenimento di specialistiche che rappresentano esigenze primarie in territori come questi. Così Monica Sgherri, esponente di Rifondazione Comunista e capogruppo in Consiglio regionale sul voto agli emendamenti presentati relativi al nuovo piano sanitario regionale, discussi nella seduta della quinta commissione. Un altro emendamento bocciato dalla commissione riguardava la tutela dell'ospedale l'Elbano di Portoferraio e una sua classificazione in ospedale di base. L'Isola d'Elba, ha sottolineato la consigliera regionale di Rifondazione, è una peculiarità nella peculiarità essendo l'unico ospedale insulare presente nella regione. L'Elba, che quadruplica la sua popolazione durante il periodo estivo e i cui tempi di percorrenza in emergenza superano quei 60 minuti che oramai la letteratura scientifica individua in decisivi per una maggiore possibilità di sopravvivenza. E in caso di condizioni avverse, la copertura dell'emergenza urgenza rischia di non essere garantita neppure dal servizio di alisoccorso. Non ci fermeremo certo qui, conclude la consigliera Sgherri, perché parliamo di stanze sacrosante di quei territori, istanze che noi intendiamo sostenere sino alla fine. Presenteremo quindi, conclude, gli emendamenti per la discussione pubblica dell'Aula. E sentiremo nei prossimi giorni quali saranno le ripercussioni a questa dura presa di posizione di rifondazione comunista. Tutti d'accordo in regione invece sul rischio idrogeologico da affrontare con importanti risorse, tanto che il Presidente Rossi ha detto faremo a meno del patto di stabilità, lo metteremo alle nostre spalle perché ci costringe a mettere in pericolo la sicurezza dei nostri concittadini. Sentiamo. La Regione investirà 50 milioni di euro per le opere di difesa idraulica fuori dal patto di stabilità. È una delle decisioni prese ieri dalla Giunta regionale su proposta del Presidente Enrico Rossi. E a chi, durante il briefing con la stampa, ha parlato di forzatura, Rossi ha replicato. Su temi come la sicurezza del territorio e il rischio idrogeologico si devono fare anche forzature. Non è accettabile, ha detto, che lungaggini e burocrazia mettano i cittadini in condizioni di rischio. Il patto di stabilità che impone un tetto alla spesa dei comuni e delle regioni, anche quando questi hanno i soldi, è, come ha detto altre volte Renzi, il Presidente del Consiglio, prima di tutto un patto di stupidità che diventa insopportabile, vergognoso, soprattutto di fronte alla necessità di spendere per l'assetto idrogeologico, per evitare alluvioni, per prevenire, per mettere in sicurezza. È una vergogna che l'Europa ci imponga di morire annegati per Maastricht, cioè per il patto di stabilità. Per questo, sperando di dar mano anche al Governo nazionale che mette in discussione questi limiti che vengono dall'Europa, questi vincoli, noi a partire dall'anno prossimo diciamo che continueremo a spendere i nostri 50 milioni tutti gli anni, come abbiamo iniziato a fare dal 2011, fuori dal patto di stabilità. E invito comuni, regioni, province che facciano altrettanto, perché non è possibile che questi vincoli impediscono di realizzare opere importanti e decisive per la vita dei cittadini. All'inizio della seconda parte del nostro telegiornale parliamo di una imprenditrice di successo, Franca Rosso, che porta le sue aziende al Parlamento europeo. Un importante successo che probabilmente sarà da traino anche per tutte le aziende dell'isola. Ma sentiamo i particolari nel servizio. Il 16 di ottobre un pezzo di Elbasera al Parlamento europeo delle imprese. Franca Rosso, titolare di Geneservice e dell'azienda di dermocosmesi Health & Beauty, sarà a Bruxelles insieme ad altre 70 aziende italiane che saranno ricevute dal presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, e da una delegazione di parlamentari italiani. Dopodomani, il 16 di ottobre, abbiamo la giornata dell'impresa al Parlamento europeo. Io vado con mio figlio Tommaso e saremo con la delegazione italiana. Partecipano 750 imprenditori di tutta Europa, di 27 paesi europei. Quindi gli italiani dovrebbero essere circa una settantina. E avremo una giornata di lavori intensi. L'emiciclo parlamentare sarà messo a disposizione degli imprenditori per parlare di quattro temi di grande interesse per il futuro dell'impresa. L'accesso al credito, competenze e lavoro, internazionalizzazione e energia. Verranno affrontati in maniera analitica questi temi. E noi dovremo dare dei pareri, ci verranno poste delle domande. Quindi avremo modo di esprimere il nostro parere e di influire in qualche maniera sulle prossime politiche europee in tema di economia e di lavoro. Un'occasione per far sentire la voce delle imprese e partecipare ad un processo storico di rinnovamento. Significa affacciarsi al mercato europeo e quindi andare a verificare anche tutte le possibilità che ci sono per l'accesso al credito e soprattutto per le nostre imprese albane. Interessa le mie società ma interessa anche a tutti i nostri imprenditori. Sapete bene che io rappresento una parte degli imprenditori albani con la Confcommercio e quindi mi sto interessando a questo, a cercare di reperire fondi per rinnovare un pochino le nostre strutture e il nostro territorio. Ho avuto la possibilità di accedere grazie all'interessamento del dottor Arnaldo Abruzzini che è il segretario generale di Eurochambre e di tutte le Camere di Commercio europee e tramite Union Camere siamo stati accreditati dopo una selezione. Adesso facciamo un passo indietro, torniamo alla politica perché insieme alle polemiche sul traffico c'erano quelle nei giorni scorsi qui a Portoferrario anche sul Consiglio Comunale convocato sull'isola di Monte Cristo. Stavolta sembra la volta buona, fra l'altro per domenica prossima è previsto bel tempo e probabilmente il Consiglio Comunale si farà. Adesso però il Sindaco Ferrari prende posizione contro il Partito Democratico che dice si mette di traverso su tutto per quanto riguarda tutte le iniziative che prendiamo ma sentiamo i particolari dello sfogo del Sindaco Ferrari in questo servizio. Sembra che l'opposizione PD si arrocchi su posizioni assolutamente ingiustificate. Ogni attività della maggioranza viene accolta con una stensione totale. Il Sindaco di Portoferrario Mario Ferrari non ci sta e risponde alle critiche della minoranza PD sulla convocazione di un Consiglio Comunale a Monte Cristo e sui due documenti su ambiente e sanità da discutere nella seduta. Abbiamo fatto un intervento di pulizia a Giardini di Carpani afferma Ferrari come comune ci siamo recati ad Amatrice per una manifestazione nazionale sulla sanità e il PD non ha mai partecipato. Si apprende anche e continua che il gruppo PD non sarà a Monte Cristo e questo significa non voler dare un contributo visti i disastri della sanità elbana in questi ultimi dieci anni e non voler fare opposizione concreta, reale e diretta. Riguardo al documento sull'ambiente Ferrari precisa che i suoi interlocutori sono il Parco Nazionale e il Ministero per l'Ambiente. Al di là delle istituzioni so con qualcuno devo avere un confronto precisa a queste lega ambiente associazioni di cui riconosco competenza, correttezza e possibilità di un dialogo. Le affermazioni del PD sono considerate dal primo cittadino illazioni senza alcun riscontro oggettivo. Non ho mai parlato di strutture recettive dice non c'è nessuna apertura al turismo nel documento si parlava di qualche giorno di permanenza riferito a ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori. Cosa ci incastra questo con l'apertura di strutture recettive? Sono un ambientalista convinto e all'ambiente credo di aver dato un buon contributo con libri, documentari, progetti. Il PD di Portoferraio non mi sembra abbia maturato queste esperienze. Inoltre, secondo Ferrari, parlare di sanità sull'isola narrata da Diuma Padre è sempre meglio che parlarne di fronte a un piatto di salsicce e fagioli alla festa dell'unità dove si pretendeva di discutere l'argomento nell'estate scorsa. L'opposizione PD prenda atto che questa è un'amministrazione del fare termina il sindaco. Essere criticati da un'ex amministrazione che si è distinta solo per le chiacchiere e per il non fare non ci può fare altro che piacere vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta. Parliamo ancora di Napoleone nelle ultime pagine del nostro telegiornale Napoleone fra arte e gastronomia in occasione della settimana della cultura della regione toscana sabato e domenica prossima ci sarà un'apertura speciale dell'Open Air Museum di Italo Bolano. Ci saranno molte occasioni di parlare di situazioni legate a Napoleone e alla storia e alla cultura del nostro territorio. In occasione della settimana della cultura della regione toscana nei giorni 18 e 19 ottobre l'Open Air Museum di San Martino riaprirà il suo caratteristico cancello pentapetalo dalle 10 alle 18. Sabato 18 ci sarà un incontro particolare con una nuova mostra su Napoleone dal titolo Napoleone dalla realtà al sogno che Bolano stesso presenterà. Inoltre dalle ore 18 e 30 alle 19 e 30 il gastronomo Alvaro Claudi parlerà della cucina napoleonica con una conferenza dal titolo La cucina nel periodo napoleonico dalla Clot du Bif al Capon di Galera. Claudi, personaggio notissimo sia all'Elba che in continente, è autore di numerosi trattati di gastronomia, è uno dei massimi esperti di cucina storica e tradizionale elbana e ha recentemente ricostruito e riscoperto ricette tipiche del periodo napoleonico. Il pomeriggio culturale è stato patrocinato dalla gestione associata dei comuni Visitelba e dal Libraio di Portoferraio. Così l'International Art Center conclude le celebrazioni del suo cinquantennale di attività dall'arte alla scienza ricordando anche il professor Alfonso Preziosi il nostro letterato elbano che sostenne con passione e ammirazione l'Art Center fin dai suoi esordi. Parliamo di rally in ultima pagina di giornale perché un equipaggio elbano, uno storico equipaggio elbano, Volpi e Scalabrini ha colto un'importante affermazione al rally città di Pistoia. Mi dà servizio. Il ritorno sotto lo stesso abitacolo di uno degli equipaggi storici del relismo elbano quello composto da Andrea Volpi e Simone Scalabrini è coinciso con un'ottima prestazione messa a segno dall'equipaggio al 35esimo rally città di Pistoia che si è corso nel fine settimana di sabato 11 e domenica 12 ottobre. 85 gli equipaggi al via per un percorso che prevedeva sette prove speciali tre al sabato in notturna e quattro nella giornata di domenica. Volpi e Scalabrini che erano al via con la Renault Clio R3C con il numero 24 sono partiti in maniera abbastanza circospetta ma poi sono andati sempre più forte cogliendo nelle prime tre prove rispettivamente un quindicesimo un decimo ed un ottavo posto concludendo la prima frazione in undicesima posizione. Nella giornata di domenica le ultime quattro prove hanno visto per l'equipaggio elbano due undicesimi e due ottavi posti con una classifica generale che si è consolidata sulla decima posizione finale. Il 35esimo rally città di Pistoia è stato vinto da Rudy Michelini e Michele Perna sul Citroen DS3 seguiti sul podio da Bizzarri e Innocenti sul Peugeot 207 e da Giannini e Solari sul Ford Fiesta RRC. Per Andrea Volpi e Simone Scalabrini oltre alla decima posizione assoluta anche il secondo posto nella classe R3C e il primo posto nel trofeo Renault. Non ci sono altre notizie questa edizione del nostro telegiornale finisce qui grazie per la cortese attenzione buon proseguimento di serata a tutti voi Grazie per la visione